Quest'anno la spesa delle famiglie per i regali di Natale subirà un nuovo crollo, diminuendo dell'11,2%, è quanto prevede l'Osservatorio Nazionale Fedel Consumatori. L'esborso medio sarà così pari ad appena 132 euro a famiglia, ancora più ristretto a confronto con lo scorso anno, 148 euro. I primi risultati rivelano una situazione sconfortante, ma è come quest'anno i consumi saranno sotto zero, evidenziano Fedel Consumatori e Adusbef in una nota. Secondo i consumatori, i cali maggiori interesseranno mobili arredamento, abbigliamento e calzature, turismo e profumeria. Sempre in ribasso, ma con flessioni più lievi almeno sotto Natale, le spese per i giocattoli, meno 2%, e quelle per gli alimentari, meno 1%. L'unica eccezione è rappresentata dall'editoria, più 0,5%. Per contrastare questa pericolosa tendenza è fondamentale stimolare una ripresa alla domanda di mercato, attraverso un'immediata anticipazione dei saldi, come avviene in altri paesi. Ed una detassazione delle tredicesime, suggeriscono Rosario Trafiletti, presidente di Fedel Consumatori, ed Elio Lannutti, a capo dell'Adusbef.